buongiorno dall'officina della regina oggi vedremo come si fa lo yogurt utilizzando la yogurtiera e potrete fare yogurt di latte vaccino oppure con il latte di soia e potrete utilizzare uno yogurt bianco come starter oppure dei fermenti e proprio per yogurt e procediamo se utilizzate un latte fresco e sarà necessario bollirlo perché la carica batterica del latte fresco e non è compatibile con i fermenti e potrebbe ucciderli se invece utilizzate un latte a lunga conservazione l'ebollizione non sarà necessaria in ogni caso potremo scaldare un pochino il nostro latte prima di procedere versiamo il latte in una pentola accendiamo il fuoco e lo facciamo scaldare un po' in questo caso lo faccio scaldare perché è latte a lunga conservazione quello di soia e se invece utilizzate il latte fresco vaccino lo farete bollire poi spegnete coprite e aspettate che si raffreddi per procedere con la seconda fase quando il latte è appena tiepido mi raccomando non scaldatelo troppo altrimenti i fermenti muoiono perché non sopportano le temperature alte spegnete il fuoco e versate uno yogurt in un bicchiere se scegliete uno yogurt naturale non deve essere zuccherato deve essere solo yogurt bianco e oppure se mette se utilizzate i fermenti in polvere versate una bustina di fermenti in un bicchiere Aggiungete allo yogurt un mestolino del latte tiepido anche due e scioglietelo delicatamente A questo punto è pronto e lo versiamo nel latte tiepido mescoliamo bene con delicatezza però adesso prendiamo la nostra yogurtiera e io ho questa con il vaso da un litro se voi avete i vasetti singoli e distribuirete lo yogurt nei vasetti coprite e mettete nella caldaia mettete sopra l'altro coperchio e adesso lo attacchiamo alla corrente lo lasciamo riposare così dalle 6 alle 10 12 ore più ore lo lasceremo più lo yogurt diventerà denso e sulla superficie si formerà uno strato di siero se fate lo yogurt con il latte vaccino utilizzate un latte intero per ottenere uno yogurt più denso e e un latte magro per ottenere uno yogurt più liquido lo yogurt non tollera le vibrazioni quindi non mettete il barattolo sui frigoriferi o su piani della cucina dove poi dovrete spostarli una volta che l'avete posizionato in un angolo lasciatelo stare così fino a quando non sarà pronto io in genere lo faccio la sera così poi lo lascio tutta la notte a riposare e la mattina è pronto anche oggi ho fatto così e quindi adesso lo lasciamo in incubazione per tutta la notte e a domani mattina per vedere il risultato sono trascorse 10 ore da quando abbiamo messo lo yogurt a fermentare e adesso vediamo come è venuto perché è pronto sembra buono a questo punto rimuoviamo il vaso dalla caldaia prima di andare avanti aspettiamo che si raffreddi perché è molto caldo in questo caso trattandosi di uno yogurt di soia è molto compatto se invece fate lo yogurt con il latte vaccino quando lo yogurt è pronto vedrete sulla superficie uno strato di siero che dopo andrà rimosso e adesso copritelo e lasciatelo a riposo fin tanto che non si sarà raffreddato lo yogurt è appena appena tiepido e adesso possiamo metterlo in frigorifero possiamo scegliere se mettere direttamente tutto il vaso intero così e poi prelevare la quantità che ci occorre di volta in volta oppure se dividerlo in vasetti monodose o più grandi e in ogni caso prima di riporlo in frigorifero togliamo una quantità di yogurt che ci servirà per la produzione dello yogurt successivo e va bene un vasetto come questi della Bormioli o anche un altro in vetro e della capacità di 125-150 millilitri e della Bormioli Questo yogurt è quello che utilizzeremo per la prossima produzione e servirà per fare un altro litro di yogurt. Chiudiamo il vasetto e lo riponiamo in frigorifero per un tempo massimo di una settimana 10 giorni. Riempiamo i vasetti. Lo yogurt è pronto. Possiamo chiudere i vasetti e metterlo direttamente in frigorifero. Oppure possiamo aspettare altri 30 minuti e vedrete che sulla superficie comparirà del siero come sta già accadendo in questo momento. Se rimuovete il siero lo yogurt sarà ancora più denso. Se invece lo rimescolate insieme allo yogurt verrà un pochino più morbido. Ho rimosso un po' di siero ed eccolo qui. Adesso è pronto per andare in frigorifero. In frigorifero prenderà una consistenza maggiore di quella che vedete adesso. Lo yogurt che avete prelevato all'inizio lo mettete in frigorifero e lo utilizzerete la prossima volta quando farete nuovo yogurt. Anziché utilizzare i fermenti in polvere o uno yogurt già pronto come quelli che si comprano come abbiamo fatto all'inizio e nella prossima produzione utilizzerete questo. Un ciao dall'officina della regina e alla prossima ricetta!